Se si parla di Natale, si ragiona di Betlemme, si ragiona della Madonna e si ragiona di San Giuseppe, se non si è capito di che stiamo parlando. A me interessa che il Natale sia segnato da un'attenzione per Gesù e che ci sia la dimensione soprannaturale quantomeno non ignorata. Tornerà la messa di mezzanotte, questo è l'annuncio che lei ha fatto, o magari le restrizioni quelle ci saranno? Le restrizioni senz'altro, tutto nel rispetto delle norme, questo si fa, però credo che sia giusto, non so se gli aretini verranno o no, però a mezzanotte io entrerò a fare la messa come tradizione vuole. Che messaggio si sente di dare agli aretini in questo Natale che è un po' più speciale per lei? Per me non è speciale, quello che è speciale per gli aretini e credo che sia importante, chiunque sia il vescovo, è il senso della ripresa, di andare avanti, di costruire tutti, di rincollare tutti i cocci del calice di San Donato che progressivamente negli anni si scocciano sempre, ma bisogna rimettere insieme. Ecco, questo è il senso. La città sta vivendo un momento di splendore, insomma, con questa città del Natale. Ecco, lei magari, non so se ho letto bene nelle sue parole, auspicava magari una declinazione un po' più verso anche la cultura di questa iniziativa? Ma la cultura in Arezzo viene curata, vorrei ricordare i concerti che sono stati fatti, mi piace ricordare il grande concerto organizzato al Centro Affari che è stata una cosa toccante, bellissima, no? E c'era pieno, 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 credo che gli aretini vogliano quello, quello è il senso delle cose. Poi va bene, il Luna Park si può sempre fare.